Dalla cucina per tutti ragazzi, bentornati ad un nuovo appuntamento. Oggi facciamo una cosa veramente buona, visto che abbiamo fatto diverse volte piatti per cena, per pranzo, primi, secondi, oggi facciamo qualcosa che va bene anche per la colazione. Cosa nello specifico dei croissant buonissimi alla francese. È un po' laborioso il procedimento per farli, ma vi assicuro che il risultato finale sarà davvero ottimo. Quindi se siamo curiosi di vedere come preparare questi ottimi croissant, seguitemi, i fornelli, anzi in questo caso il forno e l'impassatrice ci aspettano, mettiamoci al lavoro. Ingredienti per 8 croissant. Ci serviranno 250 g di farina manitoba, io utilizzo una manitoba con forza V460 che taglio insieme ad altri 250 g di farina 00. Questo ci permetterà di avere una lievitazione più lunga. 125 ml d'acqua, 125 ml di latte, meglio se intero, 50 g di zucchero, 10 g di sale, 20 g di lievito di birra e 200 g di burro. Io utilizzo quello salato, questo ci servirà non nell'impasto, ma per andare a fare le sfogliature. Andiamo a vedere quindi come assemblare gli ingredienti. Nella bulla da planetaria vado a mettere le due farine, i 10 g di sale e 50 g di zucchero. Facendomi aiutare da un mestolo, vado a mescolare tutti gli ingredienti, prima di aggiungere tutte le parti liquide. Iniziamo ad impastare con la foglia e il gancio lo mettiamo solo dopo che tutti gli ingredienti si saranno ben amalgamati. Quindi io non ho ancora messo i liquidi, chiudo la planetaria e metto a velocità 1. Piano piano andrò ad aggiungere il latte, l'acqua e successivamente il lievito di birra. Mettiamo l'acqua ed il latte. Ok, spengo la macchina, tiro su, vado a prendere tutti questi pezzettini rimasti alla foglia, tolgo la foglia e vado ad aggiungere il gancio. Chiudo e continuo il nostro impasto. Come potete vedere io vado ad aggiungere anche il lievito di birra. Io ho inserito anche i 20 g di lievito. Ora noi facciamo andare l'impasto per ancora qualche minuto finché ci accorgiamo che è diventato ben liscio, ben elastico. Dopodiché lo andiamo a togliere e vediamo come andare avanti. Perfetto! Abbiamo impastato per circa 10 minuti e come potete vedere l'impasto risulta in questo modo. Vedete non è un impasto appiccicoso ma rimane comunque elastico, si è ben incordato. Ora noi cosa facciamo? Lo andiamo a chiudere un po' in questo modo, vedete? Lo lasciamo all'interno della bull della planetaria e lo andiamo a mettere in forno spento per circa un'ora. Nel frattempo andiamo a preparare il burro. Dopo aver messo l'impasto in forno noi ci portiamo avanti. Io ho preso il burro che deve essere freddo di frigo e ho preso anche una bustina per congelare. Allora io che cosa faccio? siccome noi dovremo andare poi a creare la sfogliatura all'interno dell'impasto e dobbiamo creare quindi anche una sfoglia di burro, io prendo il burro, lo taglio a pezzettini e lo comincio a mettere nella busta. Vi faccio vedere poi come il mattarello viene inquadrato perfetto e questo è il risultato che vogliamo ottenere. Ok abbiamo messo il burro in questo modo, ora andiamo a schiacciare con un mattarello andando anche a prendere tutti quanti gli angoli. Quando ci accorgiamo e abbiamo formato un bel quadrato, rimettiamo il burro in frigorifero perché deve risultare sempre ben freddo da frigo. Ok abbiamo completato l'operazione, come vedete è venuta una sorta di sottiletta di burro, no questo ci servirà davvero per riuscire a fare meglio le sfoglie senza stare troppo a impazzire per tirare il burro magari con la carta da forno che ci risulta più difficile. Ora mettiamo in frigo appunto il nostro burro e aspettiamo che l'impasto abbia completato il suo riposo, la sua lievitazione. È trascorsa un'ora da quando abbiamo messo l'impasto nel forno, l'avevamo coperto, come vedete non ha lievitato molto ed è giusto che sia così, noi l'abbiamo anche coperto ovviamente per non formare di quella brutta crosticina sulla superficie. Ora noi quale operazione andiamo a fare? Andiamo quindi a stendere l'impasto formando un rettangolo. Cerchiamo di tirarlo con una forma regolare, in questo modo come vedete e ora facciamo, guardate, questo procedimento. Noi prendiamo il nostro impasto e lo andiamo a piegare così, in questo modo, con questi lembi ben tirati e deve venire fuori questo risultato. Prendiamo la carta trasparente e andiamo a chiuderlo e a riporlo in frigorifero. In frigorifero per 8-10 ore. Abbiamo lasciato riposare per bene l'impasto, come vedete ha lievitato ma è anche riposato, quindi noi ora lo andiamo a togliere dalla pellicola, lo mettiamo in questo modo e cominciamo a prendere. Ecco, vedete, io ho cercato di mantenere una forma molto regolare. Io sono andato a prendere dal frigo il panetto di burro che abbiamo, diciamo, assottigliato in questo modo e vedete, ho cercato di dare alla pasta praticamente la stessa larghezza del nostro burro, lasciando circa un centimetro da una parte e un centimetro dall'altra. Ora io vado a togliere il burro dalla plastica e la cosa positiva qual è? Che il burro e l'impasto ora sono alla stessa temperatura. Questo gli permetterà al burro di non andare ad amalgamarsi insieme all'impasto, ma bensì a formare gli strati, che ora vi faccio vedere come si fanno. Ecco qua, io ho messo il burro al centro del nostro impasto, ora noi andiamo a prendere i due lembi e li andiamo a sovrapporre sopra l'impasto. Però dobbiamo avere cura di non sovrapporli in questo modo, bensì di tenerli semplicemente vicini in questo modo qua. Ecco, vedete, sigilliamo per bene, sigilliamo anche questa parte e quest'altra e cominciamo a tirare da questa parte il nostro impasto. Schiacciamo, noi gli facciamo una prima piega in questo modo, un'altra a un quarto in questo modo così, sempre mantenendo i lembi separati ma vicini e poi gli andiamo a fare un'ultima piega così. E come potete vedere abbiamo già creato uno, due, tre e quattro strati. Noi ora andiamo a riporre ancora in frigorifero il nostro impasto affinché gli ingredienti ritornano ad essere a temperatura di frigo. Fra circa 40 minuti li ritiriamo fuori e gli facciamo lo stesso procedimento. Vi faccio vedere come tirare di nuovo l'impasto. Ha riposato mezz'ora, noi andiamo ancora a schiacciarlo e rifacciamo praticamente quello che abbiamo fatto prima. Mi raccomando, state attenti quando lo tirate a non strapparlo. Il burro ovviamente deve rimanere all'interno, non deve uscire. Lo andiamo semplicemente a chiudere così. Vedete? Gli abbiamo creato, in questo caso, tre strati. Noi ora la rimettiamo nella pellicola e la andiamo a riporre nel frigorifero per altri 40-45 minuti. L'impasto è davvero bello freddo e questo è quello che dobbiamo fare, mantenere sempre freddo la nostra pasta, il nostro impasto. Ed eccoci giunti alla parte finale del nostro procedimento. Ovviamente anche se l'abbiamo tenuto in frigorifero un po' lievita. Noi facciamo sempre lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima, lo andiamo a schiacciare per bene e tiriamo l'impasto in modo che raggiunga il mezzo centimetro di spessore. Poi lo andremo a tagliare con una rotella se vogliamo essere più comodi oppure con un coltello. Vediamo dopo come fare. Io per essere più comodo a tirare la pasta, vado a tagliare a metà. Noi ora facciamo in questo modo. Andiamo a creare dei piccoli triangoli, tiriamo via le parti in eccedenza e creiamo dei triangoli come questi. Noi ora gli andiamo a praticare un piccolo taglio a tutti quanti qui, come vedete, e poi facciamo questo procedimento. Andiamo a prendere i lembi del nostro impasto e li andiamo a tirare proprio in questo modo. Avendo cura di lasciare questa parte sotto. Ecco che io li metto sulla placca da forno e questi li andrò a riporre in frigorifero per tutta la notte. Ci vediamo domani mattina per la cottura e la prova dell'assaggio dei nostri croissant. Buonanotte ragazzi. Ragazzi buongiorno, sono le sette e mezza di mattina. Io mi sono alzato un po' prima questa mattina perché ovviamente devo preparare i croissant che ho tirato fuori dal frigo e che avevo coperto con la pellicola trasparente. Ne ho aggiunto uno in più poi alla fine ieri sera. Allora noi cosa andiamo a fare ora in questo momento? Prendiamo, io in questa ciotola ho preso un uovo, un pochino di latte e un cucchiaino di zucchero semolato. Con un pennellino noi andiamo a spennellare sopra i nostri croissant questa emulsione. Ok ragazzi, io ho completato l'operazione. Ora noi andiamo a fare questa cosa. Teniamo a temperatura ambiente i croissant, non li mettiamo più in frigorifero. Nel frattempo andiamo ad accendere il forno a 200 gradi ventilato. Ovviamente l'emulsione permetterà di creare una bella crosticina croccante e dorata sulla superficie dei nostri croissant. Dopo che abbiamo aspettato questi famosi 30 minuti andiamo a dargli un'altra passata con uovo, latte e zucchero e poi una volta che il forno è caldo, abbiamo detto 200 gradi ventilato, li possiamo infornare. Abbiamo detto quindi 200 gradi, forno ventilato. Aspettiamo che arrivi a temperatura, diamo l'ultima spennellata ai croissant e poi possiamo infornare. Il forno ha raggiunto temperatura, inforniamo la placca e teniamo i croissant a 200 gradi per 5 minuti, dopodiché abbassiamo a 180 gradi per altri 10-12 minuti. Trascorsi 5 minuti abbassiamo la temperatura a 180 gradi, cottura per altri 10 minuti. Guardate ragazzi, sono finalmente pronti! Non vedevo l'ora di tirarli fuori, buoni! Allora, innanzitutto il colore è perfetto come vedete. Io li lascio riposare per 10-15 minuti, così diciamo li possiamo mangiare tiepidi ma non troppo caldi e andiamo a metterli poi in un piatto con un po' di zucchero a velo. Mettiamo un po' di zucchero a velo sul nostro croissant e andiamo con la prova dell'assaggio. Siamo giunti alla prova dell'assaggio. Siamo in ballo da ieri mattina e finalmente questa mattina facciamo un morso a questi croissant. Allora, innanzitutto vi faccio vedere, innanzitutto vi faccio vedere. Allora, sono leggerissimi e noi andiamo a fare... sentite il rumore, eh? Sentite! Ah, belli! Guardate! Hanno creato queste sfoglie. Ora andiamo a assaggiare, vediamo com'è il risultato. Ragazzi, è davvero top! Allora, mi raccomando, non saltate nessun passaggio perché altrimenti non vi vengono croccanti, non vi vengono sfogliati, non vi vengono colorati e soprattutto non vi vengono leggeri. Fatemi sapere nei commenti come vi sono venuti. Tra l'altro questi li possiamo mangiare non solo a colazione, come sto facendo io questa mattina, ma anche, per esempio, se ci vogliamo mettere del salmone, se ci vogliamo mettere dell'affettato, per un aperitivo, insomma. Fatemi sapere, come vi dicevo nei commenti, come vi sono venuti. Datemi dei suggerimenti. Lasciate un like e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che vengono caricati sul canale. Dalla Cucina per tutti e da Chef Fabio, un saluto e una buona giornata!